minasan konnichiwa che come sappiamo vuol dire buongiorno a tutti uno degli argomenti che io tratto nel mio libro svelare il giappone è quello del tempo il tempo inteso naturalmente come ritmo delle stagioni durante l'anno ma anche della giornata il ritmo nelle cerimonie il ritmo nella danza e nelle arti marziali e poi la musica gli strumenti musicali eccetera eccetera ma uno dei temi è quello anche del calcolo del tempo e delle differenze tra il calcolo del tempo in giappone e nel nostro mondo occidentale ora naturalmente il modo in cui si calcola il tempo adesso è uguale però non sempre lo è stato e io sono veramente grato al collezionista giapponese che mi ha prestato solo per oggi questo splendido esemplare di orologio daimyo daimyo quindi signore della guerra stiamo parlando dell'epoca edo diciamo tra il metà del seicento e la metà dell'ottocento voi potrete vedere il quadrante a parte il quadrante che naturalmente non ha una numerazione occidentale ma dei simboli che rappresentano gli animali dello zodiaco cioè le creature dello zodiaco cinese comunque che si applica a tutta l'area sinica ma poi a questo orologio in questo momento manca la struttura in legno che lo porta e poi una copertura e questo è perché così voi potete vedere non solo i meccanismi ma anche questo strano bilanciere che vedete sotto la campana ora di questo bilanciere di come sono stati introdotti questi orologi e di come veniva calcolato il tempo in quel periodo vi racconto in uno dei capitoli di questo libro poi mi racconterete che ne pensate intanto buona lettura